L'affattanza di questo gioco è inimmaginabile Veste gioco della vita? Si GINA! Ma come cazzo si pronuncia? Non lo so GINA! È giunto finalmente il momento di fare cose La Sicilia è in grave pericolo Devi radunare gli amici e trovare il cristallo affattato Ah ok, allora vado Amici! Andiamo a cercare gli amici Dove sono gli amici? Cosa è la donna di esploratrice? Amici? La best descrizione C'è GINA! C'è GINA! 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 Seguiteci amici dobbiamo salvare la Sicilia Ah ok Ma prima bisogna aiutare GINA a trovare la flittata Che è il suo togap è più giusto? Si Non riesco a trovare la flittata aiuto Sicuro che non ti sei seduto sopra? Oddio hai ragione Ora possiamo essere amici Per l'amor del cielo Ah ma l'hai ritrovato Allora ok Dio Perfetto Le case funzionano? Si Casa di Pala GINA! Dobbiamo salvare questa terra È l'unica cosa mai fa Ce la faremo lo giuro sul potere dell'amicizia Cosa fai tu Pala rimani lì? Conigli Pala Alza il culo e vieni con noi No davvero Invece no Eh? Posto Chi è quel tipo lì? Non c'è la prima Gli eventi si complicano No! Minord Vai Ehi Sara! Sara! In quel momento No se non lo spieghi sta cosa Non lo so spiegare Ah ben incoerenti in effetti Anyway what's going on? We run a quest to save Sicily With the power of friendship And names No I mean No No Che cazzo Andiamo a salvare il mondo Col potere dell'amicizia C'è così ignorante E boh penso che dobbiamo uscire adesso no? Che ne so Ma Pala hanno alzato il culo No Quanto vuole no Ecco Quello che stanno mangiando Grazie amici Grazie a questo Personaggio fatto caso Personaggio fatto caso Ma come Abbiamo vinto Come? Game of the year Capisci? Vabbè Game of the year edition Niente In confronto a Come a divano biondo Dell'astofasi Fa una pippa Dai Cioè voi non capite Quanto siano profondi i personaggi Allora c'è da dire che L'elaborazione musicale È eccellente Esattamente Il gameplay direi che È molto longevo Conta una cosa come Quaranta Molta replayability Diciamo Quaranta ore Prima di essere completato Giocabilità Inclusi di Elsie Mi raccomando Gratuiti La giocabilità Giocabilità Deve anche Dera Marco Merrino Perché non so cosa Significhi sinceramente Non è che intendo Il fotorealismo Fotorealismo Eh sì Molto fotorealistico E se spara un bicchiere Esatto Il ghiaccio Si muove Non è che si muove Non è che si muove Si rompe Eh È giocabilità Capisci E comunque sì Esatto